Ehi, sei nuovo? Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i futuri video. Hello bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo nella prima settimana di Wikivlog, quindi nella prima settimana di vlog. E niente, questa mattina ho passato le clip che ho registrato la settimana scorsa, appunto, che sono andata a Ischia sul computer e appunto le ho messe lì e poi ovviamente in questi giorni editorò i video, vi farò anche vedere. Tra l'altro sono le 4 e mi sto preparando perché devo uscire con i miei amici. Non ho vloggato stamattina perché ieri sera siamo tornati e quindi stamattina ho dato una mano a mia madre a togliere tutta la roba da mezzo tra valigie, vestiti sporchi, vestiti puliti, eccetera eccetera. Quindi adesso ragazzi mi andrò a preparare perché poi usciremo con i miei amici e vi porterò con me ovviamente, dato che sarà i Wikivlog. Ok raga, ci siamo, sono uscita, sto andando a prendere lo zeno per una mia amica e poi le candoline perché domani è il mio compleanno e il mio fratello. Poi tornerò a casa, posso fare la roba e scendo con i miei amici. Quindi andiamo. Ok, aspettiamo, poi andiamo sotto la fermata che sta tipo lì di fronte e io scendo con i miei amici e io scendo con i miei amici. Ok raga, non ho registrato chissà quanto, ho registrato il possibile, adesso sto tornando a casa, sono le otto e mezza di sera e niente ovviamente capitemi se non ho registrato proprio tutto ma comunque essendo con i miei amici ho preferito godermi un po' la giornata anche perché comunque non ci vedevamo da un bel po' quindi vi ho portato insomma cose a fare un giro poi magari nei prossimi giorni vedremo altre cose. mi dovrebbe arrivare la cordana di Breaking Bad ci sta? No Buona foto Abbiamo preso i diari per la scuola che stanno lì Dopo ve li faccio vedere Ok raga, il martedì nella mia zona fanno il mercato Infatti siamo qua, siamo con un po' di cose Tra i quali i diari della scuola eccetera Poi ve li farò vedere perché farò anche il video back to school Ve li farò vedere tutta la roba che ho preso Quindi ci vediamo dopo che c'è un casino Ok raga, sono andati a fare la spesa Ora siamo in casa E qui c'è il regalo di mio fratello che però non mi vuole dare un bacio Quindi non glielo do Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a te Bravo! Ti piace? Mi piace Ok raga, sono l'1-20 Sto accedendo adesso al computer con il quale poi lavorerò un po' ai video eccetera eccetera E vediamo un po', ovviamente rispondere ai commenti se me ne sono arrivati Spamerò ai video che invece ho già caricato e niente, vedremo Tra l'altro siccome come vi ho detto il compleanno di mio fratello oggi Più tardi usciremo e poi stasera andremo a mangiare al pub Quindi vi porterò come, intanto mi scuso ma stanno facendo lavori e niente, non rompere le scatole Quindi avrete l'audio un po' disturbato, ma hey Comunque cercherò di non farli durare troppo il vlog perché poi so che sono noiosi da vedere Quindi cercherò di farli durare sui massimo 15 minuti Comunque prenderò ovviamente le parti più interessanti Tipo per esempio quando vado a fare la spesa eccetera Non è che le riprenderò perché comunque non è molto interessante Comunque non stavo guardando in camera perché stavo mettendo la password al computer Che si sta accendendo con uno schermo fantastico Vabbè comunque adesso lavoro un po' al computer eccetera Poi ci vediamo dopo e vediamo un po' che cosa fare Allora ragazzi sono nel 3-10 e ha chiamato mio padre Quindi ho acceso sotto la pendola che sta... Vabbè lì, la vedete E niente, aspetto che si facciano i maccheroni Poi gli elementi sulla tavola eccetera eccetera E nel frattempo stavo iniziando ad editare i video delle vacanze Tra l'altro ragazzi se ancora non mi hai seguito su Instagram Mi invito a farlo e trovate il nome qua Che è Irene.Boiano Oppure comunque il link in descrizione Quindi mi raccomando leggete anche la descrizione Perché trovate tanti link utili Tra i quali il mio profilo di Instagram, Facebook 21Button e tutto il resto Quindi mi raccomando Ok raga sono le 3.35 e questo è un aggiornamento Ho iniziato ad editare il video del vacanze e rischio Come potete vedere lì c'è su Unimecas aperto E appunto sto editando E questo sarà il primo video Che sarà il primo e il secondo giorno Poi ho lavato i piatti Perché tanto è tornato mio padre Ha mangiato tutto il resto E nel frattempo ho messo il telefono in carica Perché poi più tardi usciremo Quindi vi devo portare con me Inoltre ragazzi ho avuto pure le date di rientro a scuola Infatti devo rientrare l'undici Io Però il problema è che è un po' incasinata la cosa Perché l'undici rientrano le quarte Perché poi la mia scuola fa rientrare le classi In base appunto alla classe Quindi le seconde eccetera Entrano un altro giorno E tutto il resto Comunque io essendo una quarta devo entrare L'undici Dalle 7.50 alle 10.50 Quindi dalle 8-10 alle 11-10 Il 13 allo stesso orario Poi il 17 e il 20 sempre allo stesso orario Quindi non farò tutta la settimana continuata Come magari fate tutti voi Ma farò appunto questi quattro giorni Per quanto riguarda settembre E poi penso che il 20 comunque ci daranno il nuovo orario Che sarà più o meno sempre provvisorio Però comunque tutta la settimana insomma andrò a scuola Almeno credo funzioni così Vedremo Comunque mi sa che Dato che faccio wiki vlog Vi porterò con me qualche giorno a scuola E ci sarà da divertirsi Vloggare nei corridoi Nel bagno Un po' dovunque insomma Vedremo E niente Io adesso continuo a lavorare Rimetto il telefono in carica Che l'ho staccato per fare sta clip E poi ci rivediamo più tardi Ed eccoci qua raga Questo è il progetto del video Di Iskia appunto Il primo video delle vacanze Che comprende il primo E il secondo giorno E basta Ed è lungo Già così 15 minuti praticamente Cioè è lunghissimo Perciò capite bene Che non posso fare un unico video Per tutte e sette giorni Perché altrimenti uscirebbe un video Di 6.000 ore Quindi niente raga Questo è il progetto Adesso lo metto a renderizzare Tra l'altro sono le 4 e mezza E quindi verso le 5 e mezza Mi sa che usciamo Quindi spero che ce la faccia Appunto a finire Prima che poi usciamo Vai Aguri Ok raga Abbiamo appena cantato Tanti aguri a mio fratello Ho spento le cantaline Perché come vi ho detto Oggi è il suo compleanno E quindi ha compiuto 12 anni Tra l'altro mi è appena arrivata Anche la collana D'Aliexpress Che mi serviva Quindi la andremo a spacchettare Tra poco Però prima vado a mangiare la torta Eccomi qua Allora Openiamo il pacchetto Eccoci qua La collana sta qui Ed eccola Qua la collana Collana di Breaking Bad Come Credo che avevo già detto Apriamola Ok Catena abbastanza lunga Ah no Sono due collane Ok Sono due Quindi sono due pezzi staccati Perfetto La catenina Non è così lunga Allora E come vedete Stanno le iniziali Della sigla B Br E B A Come potete vedere Ok Adesso le farò vedere meglio Più da vicino Ed eccola qua Qua c'è anche il mio capello Ok Come potete vedere Uguali A La sigla Appunto Della serie TV E Niente Io ho adorato davvero tanto Breaking Bad Quindi sono contentissima Ok Stiamo scendendo Non ho proprio l'idea Lui non stiamo andando Quindi vedremo Stata facendo INE Certi Non è il compleanno di Mattia Comunque siamo al parco divertimenti di bolla Liberty City Fan Mi farò qualche clip ma non tutto Mattia ha pianto Si mette paura Topolino Benvenuti a Liberty City Fan E' un bel Mattia sei contento? Intervista al festeggiato sei contento? Non continuo Questo percorso che vedete qua su è il percorso di Indiana Jones Una cosa avventurosa in virgolette E mio fratello fa lo stupido Non mi sentirete mai ma ehi Abbiamo recuperato i giustre fuori Adesso decideremo dove andare Allora stiamo andando fuori Perché le attrazioni dentro sono per i bambini non nati Quindi andiamo a cercare qualcosa che possiamo fare anche noi Ok qua ci sono le giustre fuori Probabilmente faremo lo squalo Forse questo Lo scivolo lassù non credo E poi vediamo un po' Ragazzi siamo andati appena sullo squalo Che sta dietro di me mi sono rotta Io ho una gamba e mi presa dal ginocchio Comunque è stato fantastico Perché quando ci ne va comunque un veloceo è la luce Solo ero un occhio da registrare Perché non mi potevo mai tenere il caderno Ok come vi ho detto abbiamo fatto questo E ci sono spaccati sia la schiena sia le gambe E invece adesso faremo la barca Poi faremo probabilmente questa cosa che va su e giù E poi vedremo Daremi un euro grazie gentilissimo Ciao Questo è il dragone raga Mia mamma vi ha detto perché non andate lì invece Andare sullo squalo Sì nei giochi dei bambini che va lento è un accidente Quindi boh Vedremo vedremo Comunque comunque Adesso andremo a fare la torre che è alle mie spalle Perché la barca di là è fuori operatoria Non c'è un anime in questo parco gioco Non si sa com'è e quando funzioneranno i giochi Quindi boh Forse dopo facciamo pure il percorso dei go-kart Barra macchinine Quello che cacchio è E poi faremo le macchine tutti i corsi all'interno E forse pure il percorso di emergenza se ce la facciamo con i gettoni Perché non lo sappiamo Probabilmente non Ok raga me lo ricordavo perché adesso andiamo a fare qualche altra cosa Ok raga adesso facciamo i quad Però penso che non riprendo perché mia sorella sta laggiù Allora Il nostro piano era quello di fare questi Ma se l'operatore non arriva non possiamo farli E niente vedremo vedremo Non so se mi sentirete mai Spero di sì Di momento lo spero Ok raga siamo riusciti a fare i quad Adesso siamo dentro cercando qualche altra attrazione da fare Anche perché stiamo finendo i gettoni Ne abbiamo veramente pochissimi Quindi boh vedremo Ok raga siamo appena noi sui auto scontri Quindi ok Adesso vediamo l'ultimo giro perché abbiamo gli ultimi 4 gettoni rimanenti Ok raga abbiamo appena fatto il percorso di Indiana Jones Che vedete alle mie spalle ma non ho registrato Perché non potevo Chase Sono già stata rollata per il fatto che porto gli occhiali e non li potevo avere Quindi ho deciso di no Comunque questo è l'ultimo tubo lo ce la facciamo insieme Non c'era un cazzo Oh eccoci luce Ok raga abbiamo finito anche l'ultimo giro Quindi abbiamo finito tutti i gettoni Mattia ti sei divertito? siiii io sto siudando in una maniera incredibile comunque adesso non è ancora finita la serata perchè andremo al pub adesso sono al negozio di scarpe si andremo a mangiare il pub e quindi vi porterò come anche lì e vedremo un po' ok raga siamo usciti perchè abbiamo finito i cosi, le robe e quindi sto andando in macchina perchè poi andremo a vostro casa dove andremo poi a mangiare poi al pub che a mio fratello piace molto perchè si mangia un sacco di roba e quindi mio fratello Essendo un uccellino mangerà tanto Un uccellino bravo Uccellino bravo Comunque sono le altre 10 Raga siamo al parco Siamo ai dati Ciao babbo Ciao mattina Ciao E dai mamma Abbiamo ordinato raga Ok raga sorse polpettine Salsa barbecue Patatine Mia sorella che mangia la bruschetta Mio fratello che mangia E mia mamma che mangia Ok raga si mettiamo a bere per il resto E' arrivato il panino raga Bacon, insalata e hamburger Raga sta piovendo Fino a me stava un sole che spaccava le pietre Guardate qua Ed ecco le crepe E babbo ci è rimasto male Perché volevo le graffette Olé 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 Ok raga abbiamo finito di mangiare Sono usciti Sono arrivate anche le graffi Come avete visto Ma sta ancora piovendo Quindi probabilmente per entrare in macchina Siete pronti Invece i panieri Muffo Muffa niente Insomma Buongiorno Day free Vieni si prepara il latte Perfetto E intanto Noi altri piatti Tra l'altro come potete ben vedere Siamo 220 iscritti E oggi è il 5 settembre Per il 10 settembre Conto di arrivare almeno Ai 240 Ce la faremo? Probabilmente Si Ok raga Stamattina registro il video Back to school L'ho caricato Editato E messo anche su youtube E niente Adesso stiamo accendendo Ok raga Sono passate un paio di ore Dall'ultima clip Sono le 8.45 Infatti come vedete Sono in pigiama Ho anche mangiato E niente Mi sono completamente dimenticata Di stare vloggando Quindi non ho ripreso nulla Vabbè che non ho fatto nulla Perché alla fine Siamo andati a fare la spesa E poi siamo andati un po' fuori al bar E ce ne siamo tornati a casa Quindi non vi siete persi niente Cercherò di non farlo capitare più Comunque mi scuso E vi aspetto domani Buongiorno raga Benvenuti in questo nuovissimo video E niente Oggi è giovedì Quindi continueremo Questa settimana Di wikivlog Tra l'altro Oggi indosso Questa maglietta Della Balenciaga Con i miei pantaloncini Di jeans Quelli lanieri E non so come farvelo vedere Perché altrimenti Non ho uno specchio intero Quindi Magari ve lo faccio vedere Più tardi Dai Anche perché Cioè in realtà Stai di lato L'armadio Qui Dove? Qui Solo che C'è un casino Poi è qua fuori Quindi ve lo faccio vedere Dopo magari Comunque adesso scendo Perché devo andare a comprare Le cose a mia mamma Quindi magari vi porto con me O anzi no Perché non so se riesco a riprendere Dato che avrò le mani occupate Vabbè Vedremo comunque E tra l'altro Adesso c'è il mio padre Quindi usciamo di nuovo Una settimana Molto movimentata Allora raga Sono le 5 O meno 10 Da stamattina Non ho più fatto clip Perché poi ho acceso il computer E niente Praticamente mi sono messa Con Dani A costruire Il mondo della roleplay Siamo arrivati all'Ocean Come lo dovete chiamare Voi Regà è diventato un incubo Tutta la roba Per il back to school Guardate qua Quanti cacchio di scaffali Tutta roba a scuola Siamo da Euronics Guardate qua Quanta roba Il mio paradiso Praticamente Ti piacciono i giochi Di Apple Station Si papino Un po' di roba Overprezzato ovviamente Eravamo alla ricerca Di un buon portatile A mio fratello Che non si superi 400 euro Ma questi sono un attimo Un attimo tutti Overprezzati E fanno cagare Cioè guardate questo Per esempio Poi invece c'è un portatile E un pc fisso Che mi ha colpito molto Ovvero questo qui Della Lenovo Che ha le seguenti caratteristiche E questo è davvero Un bel computerone Dicevo è davvero Un bel computerone Considerando che Si può prendere anche Errate Che è quello Che vorrei fare Io un giorno Prima o poi Quindi Prima o poi Non lo farò Un portatile Ok raga Siamo tornati a casa Comunque come avete potuto Vedere da qui E niente I vlog volevo dirvi Che dureranno Fino alla domenica sera E poi la domenica sera Li editerò E ve li farò uscire Il lunedì Alle 14 Oppure a luna Comunque sia Adesso vado a farmi Una doccia Vado in pigiama Poi dobbiamo mangiare E poi vabbè Come al solito Guardo video Vosto sui social E poi vado a dormire Quindi mi sa che Ci vedremo direttamente domani Come al solito Buongiorno Spesa time Oggi è venerdì Quindi andiamo a fare la spesa Però torniamo a casa Ok sono tornata a casa Comunque sono le 9.35 Quindi adesso vado a mangiare I miei batticuori Come ieri E poi più tardi Verso le 11 e mezzo Accendo il computer E continuo a lavorare Allora per i condani E poi faremo altre cose Buongiorno Oggi è sabato E sono raffreddissima Con un mal di quella Tremendo Bene Perfetto Prima settimana Di wiki vlog Inizia da benissimo Tra l'altro Non mi ricordo neanche ieri Dove sono rimasta Però va bene E niente Oggi esco Quindi probabilmente Vi registro qualcosa oggi E magari qualche clip dopo Non lo so Perché vedremo Insomma Comunque questa è una settimana di prova Non vi preoccupate Che le prossime saranno meglio Allora raga Aggiornamento Sono le 2 e un quarto Ed è sempre sabato Verso le 4 e mezza Devo uscire Quindi vi porterò con me E niente La situazione Raffreddore e mal di gola Peggiora Anziché migliorare Raffreddore e peggiora Mentre il mal di gola Sembra essersi calmato Almeno per il momento Perché stamattina Ho preso una taggipirina E qui niente Vedremo un po' Come va la situa Ok raga Sono uscita Come potete vedere Sono al solito punto di ritrovo Sto aspettando la mia amica Che viene per andare sotto la fermata Con il resto dello squad Andando a prendere pullman Per andare a fuori E ho comprato una confezione Di caramelle Quella da superforti E spero mi aiutino A farmi passare Sto raffreddore Sto mal di gola Che non ci faccio più Comunque ci vediamo dopo Il deserto Deserto totale Saranno anche le 4 e mezza Però comunque è un deserto Prima di qualche macchina Che passa ogni morte di papa Giusto per E niente Nella mia amica Ancora nessuna ombra Siamo a piazza Dante Regà Siamo a piazza Sono in spiaggia Non sei salito Raga Il negozio portatile di cover LOL Fantastico Sì lo so che è scemo Non ci fate caso Nonostante siamo a settembre Inoltrata ormai La spiaggia è ancora Bella piena Ok ho fatto una mini live Solo che ho perso la connessione Infatti è durata solo 8 minuti Però vabbè dai Almeno l'abbiamo fatta Sapete che sono al mare Quindi se commentate Ci danno rispondo Sapete perché E niente Adesso sono sotto Al bar Dove sono anche giochi Per i bambini Sto facendo accompagnare Mio fratella e mia sorella E adesso vi riprendo Qualche clip Me ne torno sotto L'ombrellone sul lettino E cerco di non morire Comunque anche Con la fine dell'estate Io non mi rassegno Anche mal di colore A freddore Io vado a mare lo stesso Ok raga Siamo tornati a casa La situazione naso migliora Mentre gola peggiora Però va bene Ho fatto quella mini live Prima E si Laggava tantissimo Lo so Ma prendevo male E vabbè Comunque sia Adesso Vado a editare questo video Anzi Prima me la faccio Un oloce Poi mi metto a editare questo video Che dovrà uscire domani alle 13 E niente Io vi do appuntamento Con un prossimo video Che uscirà venerdì E spero che questo video Vi sia piaciuto Se cosa serve Mi lascia un bel pollice In su commentare Iscrivetevi al canale Se ancora avete fatto E noi ci vediamo In un prossimo video Che uscirà venerdì Appunto Bella